Sì, pronto? Buongiorno, sono Cristian Bacca, parlo con la segretaria del signor sindaco? Sì, ho chiamato circa dieci giorni fa, non so se si ricorda, le spiegai la mia situazione di disagio, sono in mezzo ad una strada e lei mi pregò di contattare l'assessore Luigi Biancalani, io l'ho contattato sempre dieci giorni fa, appena dopo che ho parlato con lei, la sua segretaria mi ha detto guardi a breve la richiamo per darle un appuntamento, sono passati dieci giorni e ho richiamato e adesso la segretaria mi ha appena comunicato che l'assessore Biancalani non è interessato a ricevermi e quindi ho chiamato una altra volta lei, mi fa incontrare per favore il signor sindaco? Perché è inutile, mi scusi? 3-9-2-7-2-9-7-9-4-3 Ma mi fa sapere qualcosa, nel senso che mi chiama e mi dice guardi c'è un appuntamento, guardi non ci interessa, fai quello che vuoi… Io vabbè chiedo l'appuntamento, poi la prego di dirmi guardi non glielo vuole dare, però almeno darmi un riscontro ecco per favore, benissimo grazie, 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 arrivederci Grazie